Ciao a tutti e ben ritrovati! Oggi siamo nelle immediate vicinanze del centro di Bari, in via Crisanzio, e vi proponiamo in vendita un ampio appartamento di tre vani. L'immobile è situato in una zona strategica, offre comfort e praticità per una vita cittadina dinamica. L'immobile si trova in un palazzo di 5 piani, con ascensore, ed è composto da ingresso, soggiorno pranzo e ampio terrazzo esterno. Perfetto per momenti di relax e convivialità. Un cucinino con ampia finestra, due camere da letto con accesso al terrazzo interno e ancora un bagno padronale. Termo autonomo per un controllo personalizzato della temperatura. Completa la proprietà, un posto autocoperto ed una cantina spaziosa per eventuali necessità di stoccaggio. L'appartamento si trova in una zona tranquilla e ben servita, e a breve distanza dal centro di Bari. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di possedere questa dimora in una delle zone più ambite di Bari. Contattateci! Ciao, alla prossima!